Ragazzi io volevo dirti di stare tranquilla, io so che hai difficoltà sulle interviste però tu vai serena, non ti preoccupare, sei blindatissima, abbiamo un sacco di trattamenti quindi veramente Sicura? Sì sì, assolutamente, c'è problema Senti, mi dai una mano perché... No, no, nel senso io ho bisogno di farti conoscere il grande pubblico Cioè tu sei famosissimo per verità però è un po' di nicchia Boris Scusi per cui, insomma, sostienimi anche tu un pochino Tu vai tranquilla, capito, sei a casa tua, fai quello che ti pare Tu fai le domande e noi se possiamo rispondiamo, se no, balbettiamo, qualcosa faremo Capito, a cazzo di cane No, stupendo è questo Viene bene a cazzo di cane Ok, ok Sì, vai tranquilla Ma che meraviglia, è come Boris Più o meno Stupendo Dai, allora vi aspetto di là Va bene Ok, perfetto Ciao Ciao Sì, ma Mi sa che non ha capito E tu dicevi cazzo di cane era una citazione? No Cioè, lei è proprio a cazzo dei cani, capito? Lei è il simbolo del cazzo di cane Anzi, lei è l'anello di congiunzione tra il cazzo di cane e il non cazzo di cane Credimi Si, mi sa che Si sono ispirati a lei Che non ha capito perché non è neanche molto intelligente No, però per fortuna non mi se ne accorta Pure è una rosicona, Vicky, lo sai Ah sì? Eh, sta pazzando Speriamo bene, però non glielo diciamo No, ma figurati, ci mancherebbe Un chiareggio Pesante, vuoi Ah sì? No? Perché la televisione sembra più grossa, invece più magra Dai, senza tette, vuoi Completamente, visto? Buonasera Buonasera Buonasera, benvenuti a una nuova puntata ricchissima Avremo tre ospiti questa sera Comunque io voglio ricordare anche a loro che probabilmente ci stanno guardando adesso dietro le quinte Che c'è sempre il nostro Marco Travaglio pronto a intervenire in qualunque momento Lui è il nostro ospite di riserva Quindi appena si verificherà un calo di tono durante l'intervista Lui sarà pronto a intervenire Per cui solo per mettere un pochino di pressione ai nostri ospiti Ci sei Marco, ci senti? Non sente Strana questa cosa Non c'è l'audio Prima o poi riusciremo, secondo me, a ripristinare il collegamento audio Va bene Andiamo avanti perché appunto puntata ricchissima, piena di ospiti Quindi io vorrei chiedere subito alla nostra Virginia di introdurre i primi due Prego, Virginia Un attimo, torno subito Ma dove vai Virginia? Dove vai? No, che ho incontrato uno Perciò un attimo da fare Eh, ho capito, ma chi sei? Torno Virginia Aspetta Abbiamo gli ospiti che aspettano Ho capito Però io voglio anche stasera, come al solito Dal solito cinese da sola Ho quel nano, zallo, ubriaco che mi rompe le scatole Sembra normale? Ma cosa stai dicendo, Virginia? Dai, andiamo avanti Sono, 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 fra quello di noi Ma volo Bene Signore, signore Materina Guzzanti e Bosoli Come si chiama? Ma come cosa lì? Vanno fino, vanno fino, vanno fino Materina Guzzanti e Vanno Fino Bella Vedi che la presto No, scusatemi Allora, Caterina Guzzanti e Francesco Panno Fino Aspetta Scusa, Caterina Tu, chiaramente, il ballo di parete Io non te lo schiedo nemmeno Perché so che sei timida Volevo fare il ballo di Vicky Perché ho saputo che ti è caduto Il classico comodino su una gamba Si vede? Beh, c'è un livido Non si poteva coprire questa cosa? No, ma sono passante No, ma non si vede tanto Beh, insomma, un po' si vede Vabbè, è così Si vede? Poi ha preso il colore della scarpa È verde scuro È una specie di muschio Ma dai A forza di fare il ballo di Paride È il ballo di Paride Tu mi hai dato grande soddisfazione adesso Perché ho visto che L'ho fatto No, l'hai interpretato a modo tuo? Sì È una remata, no? Beh Anche l'indietro Anche l'indietro Vabbè, stupendo E non è caduto il microfono Vabbè, da questo punto vi potete accomodare Grazie, prima le donne i bambini Caterina è già terrorizzata Eccola qua No, è bella C'è bella gente Ammazza Io non avevo capito Che c'era tutta questa gente Hai visto? Pensavo fossero un applauso Pensavo ci fossero un applauso Pensavo ci fossero un applauso finti No, no, no Eh, lo so Ti spiego È un programma televisivo Ah, non avevamo capito Perché c'è il pubblico Il pubblico in studio Ecco, bene sono accorto adesso Poi, bene ragazzi Belle ragazze Ottimo Siamo tutti contenti Grazie Calmo, eh Vero Allora, io vorrei cominciare subito Con il chiedervi Allora, Caterina Intanto tu Stai tranquilla Ok Dicevo che Eh... Ti fai male Ti fai male Tra un attimo si taglia Se andiamo avanti così Ma scusa No, allora Io vi voglio dire questa cosa Per svelare un piccolo Dietro le quinte Caterina è il peggior ospite Che uno si possa augurare In un programma di interviste Cioè Ammazza No, tra di noi No, no, no Ti spiego Io me ne andrei Vos in te 5 minuti vado No, il problema è che Lei è timidissima Diciamolo, Caterina Sei molto timida E non ami andare a fare Le interviste in televisione Giusto? Diciamo che non amo Non è che sono timida Non... Non mi va di parlare Bene Questo è un buon inizio È un buon inizio Ma guarda che quando ama Non è affatto timida Vi posso assicurare Tra l'altro, scusate Me l'hanno detto Me l'hanno detto Ah, Francesco Tra l'altro Sei qualcuno che non si fa i fatti propri Sì, è vero Tra l'altro è anche in una versione un po' porca Ultimamente, vero? No, sono solo bionda Sei bionda? Il biondo comporta tutta una serie di cose Di atteggiamenti Porca? Sei un po' porca No, volevo metterti a tuo agio Però vedo che non funziona Questa cosa qua No No, adesso Francesco È porca, è porca Ti posso assicurare? Dai, è francese È porca Lavorano insieme E tu lo saprai bene Ne ho viste ricotte di crude Sta prendendo una pessima piega Questa Perché Ne parla tutta Ciampino Ne parla tutta Ciampino Perché noi giriamo Boris vicino a Ciampino E allora lì vengono i curiosi Lei ha fatto dei numeri che non ti dicono Vabbè, dopo te lo dico È per questo la tinta bionda? È per questo Non ti accontentavi prima Perché non so Sta smignotteggiando Sta smignotteggiando? Non so Ma ne parliamo tra poco Che mi è presa Poraccia Non so Ne parliamo veramente tra pochissima No, Poraccia C'è un sacco di uomini Vero o no? Eccoci qua E quindi Eccoci qua Allora Possiamo parlare un attimo del fatto che Io vi dicevo È il peggior ospite Che uno si possa augurare In televisione L'hai già detto? No L'ho voluto ripetere Per riprendere un attimo il filo Del discorso Perché tra l'altro Uno di solito Cosa succede? Quando inizi un'intervista I soliti convenevoli Anche un po' magari falsi No? Che bello avervi qui In realtà non te ne pregagni Ma sai che ti vedo bellissima Cosa di questo tipo Io so che i complimenti in genere Ti imbarazzano, giusto? Sì No, cioè Fanno sempre piacere Però Io so che diventi aggressiva Quando ti fanno i complimenti No, non diventa aggressiva Sono timida Siccome so di essere timida Cerco di sembrare invece a mio agio E quindi Beh ci riesci benissimo Divento invadente Faccio finta di essere molto disinvolta E quindi magari Se mi chiedono qualcosa Io Faccio a mia volta delle domande A chi mi ferma Magari Sulla loro vita privata Non lo so E poi ha fame Quando ha fame diventa molto aggressivo Molta aggressiva Ma come quanto guadagni Non lo so Dico delle cose Ciao sei bravissima A quanto guadagni Dici delle cose a caso A caso No, però Adesso a parte gli scherzi Possiamo parlare un pochino Possiamo parlare un pochino Francesco Sella bella pansella Io ho la panza E sono un ex timido Poi questo lavoro che faccio Mi ha insieme a teatro Insomma il fatto di rivolgersi al pubblico Mi ha completamente guarito Dalla timidezza Si è sciolto dalla timidezza Si è diventato anche fin troppo Qual è il contrario di timido? Istraverso Intraprendente Intraprendente Anche nel tuo Ma non è il contrario Ma va bene Ecco Sfacciato Sfacciato Sei sfacciato Si mi tolgo Sfaccio Mi tolgo la faccia Però io vorrei anche Presentarti al grande pubblico In un altro modo Perché Mi giro Se voglio Perché Non lo sapete tutti Anzi Forse non lo sa nessuno Perché ti conoscono tutti per Boris e teatro No Però tu sei la voce di George Clooney Van Damme Tutto quanto E Forrest Gump Tome Ecco E quindi possiamo fare una Piccola dimostrazione Mi devo mettere gli occhiali però Dove No no ma è solo Non ho capito Guarda se tu ti giri un attimo Ti riprendono da là Ecco girati ancora un secondo Si Girati Girati proprio Di più Di più Ecco ancora un po' Ancora un po' Gira Gira Eccolo qua Puoi dire una qualunque Ah eccolo George come è andato il viaggio Bene grazie Ma è un carciofo Non parla Bene grazie Oh ma è vivo È vivo È un cartonato Ah non è via Non è una parola Che doppio Ma è il pensiero Faccio la voce pensiero Esatto George come è andato il viaggio Fatti gli affari tuoi Eccolo qua Lui è la voce ufficiale George Clooney Ma chi è questa Ma che vuole da me Ok Guarda che se mi fai dei complimenti La faccia è questa Un po' Eh sì La faccia è questa Però c'è un bel culo No Guarda che George mi ha telefonato una volta Per salmi i complimenti Io lo so Te li ha fatti anche in diretta da fazze Giusto? Sì Però io non c'ero L'ha fatti Sì beh li ha fatti in diretta In diretta è andata da fazze Sì sì è stato carino Però a partire Molto Poteva non farlo e l'ha fatto E invece Ti ha telefonato e che cosa ti ha detto? You are a very good actor Grazie Tanti per tuoi Per voce Thank you very much You are a very good actor Ho capito Dico ma Stai imparando l'italiano? Ma non è ancora bene Ancora Non ha tanto Ecco io ho detto Non parà troppo bene Se no mi togli il lavoro Giustamente Speriamo che Con la Camali Se si parlino in inglese Così almeno non approfondisce troppo l'italiano Non ho tutti i torti No 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 Io ti ringrazio Ti voglio ringraziare a nome di tutte le donne Perché Cluny non sarebbe lo stesso Senza di te Ti ringrazio E lo voglio dimostrare a tutto il pubblico Vediamo Ah ecco che stai cazzata No no George Clooney Deve gran parte del suo successo Al suo doppiatore pannofino Sai che non era questo il fatto Se ne sei davvero convinto Allora toglieremo i bambini dal campo E li rimanderemo alle loro famiglie di affidamento Ma non tutti sanno Che prima di essere lui Il doppiatore ufficiale I candidati erano ben altri E noi Abbiamo i documenti rarissimi All'inizio tra i papabili C'era Cristiano Malgioglio Sai che non era questo il fatto Sono schietto Se c'è qualcosa che mi piace Che trovo che sia interessante Lo dico Ma se non mi piace Purtroppo non mi posso trattenere Ti sembra divertente? Il coccolo odio Poi era quasi certo Che sarebbe stato Luca Laurenti Sai che non era questo il fatto Io adoro L'essere nudo Io non ho capito Perché quando ero piccolo C'avevo due mesi Por pisello Come si dice No perché Poi quando comincia A crescere tutto quanto Non c'è po' più il stanno Ma perché? Ma fino all'ultimo Sembrava che il più titolato Fosse Mario Giordano Sai che non era questo il fatto Non lo si dice mai Con abbastanza coraggio Qui in Mediaset Si lavora con libertà E nelle migliori condizioni professionali Ti sembra divertente? Io sono indeciso Fra Malgioglio e Giordano Malgioglio e Giordano Non sarebbero male Però ci avrebbero regalato Veramente un altro uomo Non lo so Sì sì Senti ma invece Io so che tua moglie È invece Emanuela Rosso Lui doppia George Clooney E tantissimi altri Tua moglie doppia Michelle Pfeiffer Sì anche lei Tantissimi altri E tantissimi altri Emanuela Cominciava da bambina Faceva la mitica Pippi Calzelunghe E poi dopo Ha cresciuto naturalmente E poi ci siamo conosciuti A Leggio Io le ho detto Vuoi la cuffia? E lei è stramazzata al suolo Al suolo Senti No mi immagino anche L'assurdità Perché avete un figlio Mi immagino l'assurdità Di vivere in quella casa E non sapere se da un'altra parte Quando litigliamo Siamo due pesciaroli Non due attori Che fanno il doppiaggio Sì però litigate con delle voci Che sono famosissime Sì ma potentissime Eppure il bambino Ha una voce potentissima Che supera addirittura le nostre Facciamo degli spettacoli Nel condominio Che non ha idea Guarda Tipo? E beh insomma Attacca il Il top e il pezzo Di merda E qui e là Capito? Bastato E Andrea Bastato E la cosa strana Lì è non capire Se è un film Che va O se è solo appunto Pannofino e la moglie Che gli indigano Giardino Passato l'umente Esatto Mi faccio una cosa Più o meno di questo tipo Sì si succede Qualcuno cerca A cambiare il canale Per beccare il film Maldestramente Ma non Vabbè 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 Cate Come stiamo andando? Tutto bene? Benissimo Continuate pure Io fra di voi Che non parlo mai Ma tu sei tranquilla? Mai Mai Posso fare del portavoce Se volete La puoi doppiare? Mi puoi doppiare Almeno la vediamo Muove la bocca Guarda Io vorrei essere dappertutto Meno che qui In questo momento Quando è che andiamo via? C'è una fame che non ci vedo più E già abbiamo prenotato il ristorante Facciamo così Andiamo direttamente al ristorante Senza passare dall'hotel Quando questa rottura di scatole finirà Era sì Era sì Era sì Va bene Va bene Allora In tutto questo Io Dicevo che Cate Eh Mamma mia come la guardi male Mi aiuti Io ti aiuto Te Eh Te saluto Forse perché Chi parla poco con le interviste Alla fine Però può anche È bello Esprimersi In maniera diversa Finisci là una frase No 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 Forse ha ragione È un problema Perché in presenza di una timida Divento timida anch'io Eh saluto Non ne usciamo più qui Allora non è che possiamo fare tutta una serata Un'intervista monosillabi Sì sembrate due deficienti Posso essere sincero Eh lo so ma siamo anche un po' Io vado forte sui monosillabi comunque Cosa? Vado forte sui monosillabi Perché no? Che senso? Beh Quindi se io ti faccio una domanda Sì La chiamano per i paesi È il festival del monosillabi Ma allora Scusami Non so ti faccio la domanda Sei contenta di essere qui? Scusami Francesco Mi dai una mano qui Ti prego Dici che con la voce uno può fare dei monosillabi Ma è fatto un po' Sì Come da bastacco Che poi Il problema è che Sono fatto No A un certo punto Ma a due volte Ma Ci sono Ma ci sono quelli No ma capito Ma io Ma Cioè ma che cazzo Ma capito Ma che cazzo Ma capito Capito Ti fai capire no? Allora ci sono dei personaggi Che forse se lo possono permettere di rispondere con il monosillabo Non io per esempio No ma no Non è quello offenderti adesso In questo momento Cioè Beh No però penso No penso Che ne so Giannini Padre Eh Eh Beh basta uno sguardo Gli basta Ti prego mi fai Tu che sei un L'esperto della voce Ti faccio una domanda Non so Mi parli dei tuoi progetti per il futuro? Possederti Ma mica male no? No adesso vi faccio vedere la differenza Caterina Progetti per il futuro Mm Mm Sì 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 Io non so più come uscire da questa cosa A questo punto Proporrei Sì Guarda come sei interessato Sì Di No Sì No 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 Ma questo contagio Hai capito Ma adesso che non so Di Di Proporrei Visto che siete in onda con Boris 3 Di vedere Sei contento? Che vediamo una clip Vediamo una clip Contributo Contributo Vediamola Non esageriamo Non esageriamo Per cortesia Perché è mio il privilegio Di lavorare insieme a questi comici strepitosi Ci sarebbe bisogno comunque te li presento Alfonso Chiavimano Buonasera Sono Alfonso Chiavimano Piacere Ciccio Sultano E i fratelli Giuseppe Antonietta Antonietta Locomotiva Ciuffe Ciuffe Siamo nella merda Roma è bella Ma il più bello di tutto sei tu Arianna Grazie E Tyron Dio Alessandro 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 Oh Alessandro Peretti Arianna showed me La formiga rosa No 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 I'm Alessandro The slave The slave Lo schiavo The slave L'ultima ruota del carro The last Grazie Voglio interrogazioni parlamentari Voglio le casalinghe sul piede di guerra Voglio l'ordine dei medici in biperito Voglio che Medical Dimension sia stimolo Che sconquassi Voglio che i giovani si mine vedano E rivedano le scene su Youtube Che inondino i forum Di riflessioni e ipotesi Sugli sviluppi della serie Voglio i critici in ginocchio Voglio il paginone di Repubblica René Voglio che facciamo il botto Senti ma Claudio Ma invece tu Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Bello Beh Posso dire Ti si sono illuminati gli occhi So che È un È un prodotto Al quale Entrami tenete Moltissimo Ma poi guarda Questa terza serie Posso parlare seriamente un attimo Sì assolutamente Questa terza serie Veramente Complimenti gli autori Perché è un bellissimo racconto Di 14 puntate Bellissimo racconto Di come vanno le cose in Italia Ma non solo nel mondo Da televisione Del cinema Si può applicare In tutti gli ambienti E dei rapporti umani Di com'è il potere Ti può condizionare Di com'è Ci sono degli schiavi Quelli che vengono a trattare L'ultima ruota del carro Quella che arriva Non riesce a far carriera Cioè è tutto un meccanismo Perverso Raccontato benissimo In questa serie Di Boris Vero? Grazie A proposito di questo In effetti Cioè Per voi oggi In qualche modo Stare anche dietro le quinte Con tutto quello che succedeva Un cazzo di cane Un cazzo di cane Ho capito dove si sono ispirati Un cazzo di cane Però è un Effettivamente È molto simile Boris Nel senso che Poi dietro il sono Malumore Tutto quanto Uno viene in onda È super sorridente Tutto sporco Tutto pulito Tutto dietro Una schifa Tutto appena No Si c'è si aperti Perché un po' vi siete sentiti A casa oggi No? Sì A voglia Sì Anche lei Soprattutto lei a suo agio Sì Lei proprio è A casa Puoi dirmi qualcosa Casa 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 Cioè è una serie molto ambita Cast direi No? Beh perché sì Ha avuto successo Insomma il pubblico L'ha apprezzata molto E quindi Poi dobbiamo anche essere contenti Che finalmente in Italia Siamo riusciti a fare pure Una serie decente Insomma comunque Che piace Che piace veramente Onestamente È vero È vero No grazie Però io non è che voglio dire Che le altre per carità Però Stiamo sempre a comprare I format spagnoli Tedeschi Francesi Ma perché noi qui Non stiamo Volendo Ci sono gli autori I registi E gli attori Per poter fare bene le cose È verissima questa cosa Basta farle seriamente Senza imposizioni O limiti O censure Cioè su Sky Eh vabbè D'altra parte Lì ce l'hanno fatta fare Allora io È partito ufficialmente Un merdone E Caterina Guzzanti Io sono stata Sostieni a questa cosa La guerra dei piccoli No Che questo prodotto Si può fare solo su satellite No si può fare solo su satellite Se qualche altro canale L'avesse comprato E lo passasse In chi invece no Perché non è stato comprato Da altri canali No Stanno sempre lì a traccheggiare Che adesso Se lo litigano Se lo litigano molto La sora Camilla E noi ci sottotteniamo Tutti lo vogliono E nessuno se lo piglia E perché secondo voi Se lo litigano E nessuno se lo piglia Perché cambiano I capi Vengono nominati altri Allora tutti Prendono la responsabilità Cosa ci sia un po' Un problema Scusate No Vi domanda se Non è un problema Di contenuti Forse della serie Contenuti A me non mi sembra Che siano così Se uno vuole Non li capisce Tra l'altro No 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 Non mi sembra Che sia così volgare Insomma Ma forse sì C'è un problema Di linguaggio Io trovo Meraviglioso Ma il linguaggio È quello della vita Quello che si usa Nei set Non è che dici Che cosa fai È quello della vita Non è quello della televisione Che rappresenta Un mondo che non esiste Esatto E questa l'abbiamo detta Stai andando come un treno Sei bravissima Sono veramente orgogliosissima Comunque E sono un attacca Nascita È pieno Eh lo so Lo so Lo so Io so che Boris È molto amato Insomma Stare anche internazionali Tu lo sai Io te le passerei Anche queste stare internazionali Spera Me lo metti occhiali Eh lo so È molto amata Allora fammi vedere Mi devo girare Io questo non l'ho capita Eh aspetta un attimo Dovrebbe essere amata Credo da Aspetta No però Tu hai clunei Quindi io Ti farei girare di nuovo C'è la Caterina Quindi c'è uno scambio di posto Sì No Sì Cambiatevi di posto È un po' il gioco della sedia Da qui è tutta un'altra cosa È tutta un'altra cosa Eh non capisco Come tu non ti possa sentire A tua gioco Qui ti viene proprio di parlare Qui non la smetti più Quando sei qui Allora che devo fare È Forrest Forrest Gump Vado Girati un secondo Come se fossi Eccolo qua Abbiamo Tom Hanks Mia mamma diceva sempre Che Boris è come una scatola Di cioccolatini Non sai mai Quello che ti capita Ma questa era la voce Di Forrest Gump Sì L'hai riconosciuta? Sì Ma ma Scusate Prima dovevo dire questa io Quella di Clooney No No La dice adesso Va bene Dov'è Io vedo sempre Churchill Lì Aspetta È un'idea stupidissima mia È un'idea stupidissima mia E doveva essere semplice Adesso vi invertite qua È una bella idea Lo so Un bel momento Questo è televisione Bella Questo è un giochino Lo consiglio anche a casa È divertente A Natale Invece di giocare a Tombola Fate questo Allora Vado Eccolo qua Dov'è Giorgio Io so che anche tu Segui Boris Eccolo lì Boris mi piace E la coppia Pannofino Guzzanti È la mia coppia Di attori preferita Questa era molto bella Però mi piace più lei Anche se Dicono Scusa Ti posso chiedere Anche se anche lui C'ha il suo fascino Lui c'ha il suo fascino Ma io ti chiederei Uno dei miei preferiti Che è Jean-Claude Van Damme Accomodati pure Concentrati Ti prego su questa Perché È un po' di più Girati un pochino di più Un pochino verso Eccolo lì Perfetto Ecco Ti faccio la domanda Che cosa dici Jean-Claude A qualcuno Che ti fa perdere Una puntata di Boris Questo non è Il tuo giorno fortunato E adesso ti ammazzo Non ho mai visto Tanti denti in un culo Posso tenerlo Vi ricordo Grazie Ragazzi Un uomo con mille talenti È uno straordinario Attore E doppiatore E quindi Grazie Per esserti prestato Perché lo so che era una cazzata Però mi piaceva far vedere Appunto i mille talenti Che hai tu e che Però ai quattro cantoni Sono brava Visto con che prontetta Va bene Ci perdiamo un secondo Torniamo tra pochissimo Chi ha vinto vittoria Con Francesco Pannofino Naturalmente Caterina Guzzanti Non so che cosa ho detto Naturalmente Gente che non viene Vuoi venire ospite a Victor Victoria? Ah no Io non vienerò a vedere la victoria Perché non conosco il futbol E non parla francese Quindi non vienerò Ma chi è? È un giocatore dell'Inter E cosa ho detto? Che sei bravissima Carino Bentornati Bentornati a Victor Vittoria Siamo in compagnia di Caterina Guzzanti Francesco Pannofino Le avrete riconosciuti Oppure no? Io sono abituata Quando sto vicino a lui A stare zitta Di solito Perché? Perché in Boris Lui parla Io annuisco Faccio delle faccette In cui arrivo Senti Arianna Ti volevo dire una cosa Io lo dico Sto fatto che Fabiana è mia figlia Non ti devo continuare Questa tanto mima Io entro e dico Fabiana è mia figlia E tu fai Chi se l'aspettava? Lancio un applausino Senti ma dimmi la verità Secondo te è brava? È brava Sì sì come no Allora Cominciamo Lei è straordinaria Perché mi segue Dai fai piani È meraviglioso È vero Che prendo piano Da scorto No però Vive Vive No poi a parte Posso dire Caterina veramente È una persona Con la quale si lavora Benissimo Perché è educata Veramente Non dice parolacce No carino Grazie ma È una persona Straordinariamente Cordiale È vero Non sporca È una bravissima attrice Un po' sporca Un po' sporca Però poi finiamo Non è un problema Poi pulisce Pulisce Ma io so che Tu non sopporti Chi lascia Il dentifricio aperto Hai dichiarato E la tavoletta Il water alzata E la schiuma Rinsecchita nel lavabo Beh quello sì Sei un po' condannata Alla solitudine O al lesbismo Io te lo dico Lo sai Una delle due No Posso passare Sopra Il dentifricio No Sulla schiuma Rinsecchita Però no In effetti Ti dà molto fastidio Molto fastidio Ma io ho delle super fisse Nella vita E quali altre fisse hai? Lo spazzolone Del cesso Perché è quello pure No Per esempio Ultimamente Mi Mi fa stare È l'attuntata lunga questa Mi fa stare No la so Mi fa stare molto male Quando sento Persone che Dicono Ci vediamo Settimana prossima Ti chiamo Pomeriggio Cioè la morte Ma che frequente Scusami Guarda La settimana prossima Cioè anziché La settimana prossima Tu non hai mai sentito dire Ci vediamo settimana prossima Sai che lo dico Ma infatti è una cosa che secondo me è nata a Milano Che è arrivata poi con cinque anni di ritardo anche a Roma E mi prendono molto in giro I miei amici sono un po' intransigente Sbrocco facilmente a chi parla così Per altre cose sono molto tollerante Ma non è vero Lei è buona Lei è dolce Sono buona Sono dolce Però c'ho queste Però c'è delle fissazioni Allora io Ho molto a cuore gli articoli determinativi E le preposizioni semplici e articolate E allora ti presento Ti presento una tua futura amica Lei si chiama Geppi Cucciari Scusa George È mezz'ora che ti aspetto in macchina Mi hai detto che andavi a comprare un pacchetto di sigarette E due ville sul lago E invece ti troverai con quelle due Allora vuol dire che sei proprio dell'altra sponda Portami tua sorella Portami tua sorella E vediamo come va a finire Era una squisizione Girate Era una squisizione Ma sei molto più bella tu Guarda Hai sentito Isabel A me Getti me Mi sti dire A me me va il sangue Io sono un pedale proprio Scusa non è che lo faccio Però l'ho detto Era un complimento delicatissimo No veramente a me Geppi me lo fa proprio sangue Capito? Lo fa proprio diventare Ehi Allora Diventare Non usare aggettivi di cui potresti pentirti E soprattutto che potresti non mantenere Esatto Ma perché non è sensuale a me vi piace E' sexy molto E' sessuale Poi ne piacciono anche agli altri Mica solo a me Vabbè dobbiamo parlare ancora di questo Possiamo andare avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Di parvenza Di conduttrice E' un piacere E' un piacere davvero avere qua questa coppia Diciamo così illuminata Protagonista di una serie Diciamo che E' un esempio internazionale Seconda per umorismo e sagacità Soltanto A cento vetrine A Topazia con Grecia Colmenares Se non l'avete Ho doppiato Topazia Hai doppiata? Facevo il pompiere Il bombero Il bombero Il nifra di Sparino è bombero Se non l'avete niente di contrario Adesso continuo con la mia faccia Perché devo dire parole molto lunghe E se lo facessi con la faccia di Elisabetta Non sarebbe credibile Quindi andiamo avanti Prima domanda del sondaggio Che riguarda questi due grandi amici Che io adoro Caterina usa la voce di personaggi famosi Pannofino gliela dà Secondo lei Caterina gliela mai data Pannofino L'Italia si divide Diciamo No però per il 53% soltanto Quasi 47% invece Pensa che ci sia del tenero Invece non è vero Questo è un sudalizio solamente artistico Anche se io posso dare Insomma un'anteprima in qualche modo State lavorando già un nuovo progetto Dopo Boris La coppia Pannofino-Guzzati Sarà protagonista di un noto musical Ecco Possiamo diffondere soltanto Le foto senza trucco Per ora Ma che Scusa Allora Pannofino il doppiatore storico Di George Clooney Ora che stanno insieme Non sarebbe meglio Per tutti Se doppiasse anche la Canalis Allora No per il 70% Allora ho fatto Un'apertura Diciamo una battuta Sulla mia conterranea Io voglio invece dire Che Elisabetta È sassarese Una showgirl Un'attrice Sassarese soprattutto È una mia conterranea Che ha fatto tanta fatica Per riuscire a farsi un nome E adesso Parry Sta imparando anche a scriverlo Però secondo me No davvero lo dico così Perché secondo me Siamo tutte quante invidiose Del fatto che sia Caparrata Diciamo uno dei manzi Più manzi Del mondo Diciamo Comunque io vorrei che tutti quante Facessimo un complimento Parlo anche alle donne qua presenti Complimenti Elisabetta Canalis Davvero complimenti Siamo molto felici per te Io l'ho presa veramente Con sportività Però io non so come sia La voce di George Veramente Però conosco quella di Francesco Che gli ha dato dignità Quindi per cortesia Ti consegnano un foglietto Puoi leggere la frase Che ci sarà scritta Che Me la devo mettere come suoneria Dilla Scandiscila bene Va bene Silenzio un attimo Che stanno registrando Elisabetta mi spiace Ma Geppi Ha qualcosa di più Grazie Un sottomere per il golf Certo Franci Grazie Fanno fine Guzzanti hanno lavorato insieme Nella sitcom Boris Che mostra in modo comico Cosa succede Quando si gira una fiction Secondo lei Anche Victor Vittoria Mostra in modo comico Cosa non dovrebbe succedere In un talk show No Vinci Guarda No Per il 53% Io invece davvero Voglio lodare Voi attori di Boris E anche tutti gli altri Che non sono qua presenti E gli autori Davvero per aver finalmente Trattato Insomma La fiction In maniera alternativa Perché di solito Le fiction in Italia Parlano soltanto di santi Di medici Rappresentanti delle forze Dell'ordine E tra l'altro Li fa tutti Beppe Fiorello Il genere più amato Tra l'altro Proprio quello delle forze Dell'ordine Carabinieri Polizia Distretto di polizia Servizi segreti RIS Manca solo la fiction Sugli ausiliari della sosta Ma so che ci stanno lavorando Mentre venivo qua Ho visto Beppe Fiorello Che si allenava Col giubbotto arancione Francesco Sappi che comunque Anch'io sotto sotto A Giorgio Preferisco te Ciao Cate Frequentiamoci Diventiamo amiche Usciamo insieme E facciamo tante cose Ciao Ciao Eli Ciao Eli Grazie mille Adesso prima scherzavo Ma io l'ammiro molto Geppi Ti ammira molto Geppi A me mi fa morire Anche come la sua velocità Quando dice le battute Che mi sventa Come riesce a improvvisare Perché a me l'ho vista solo qua L'ho vista anche in altre performance Devo dire Continua Continua Davvero Continua Non fare gesti Tu perché non fai gesti Vai benissimo Io tutto uguale a lui Tranne quel mondo lì Grazie C'ha roba C'ha roba E basta con i gesti Ti ho detto Si chiamano curve Ciao Ciao Allora Cambiamo argomento Si Perché Non so se il pubblico sa Che tu hai Un figlio Che pesa 500 kg Non so soprattutto Se gliene può fregare qualcosa Ma non è frega Ma invece è bella questa Vabbè È molto bella Perché Insomma 420 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg 420 kg No no Tagli da magna 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 Vogliamo specificare È un equino È un cavallo È un cavallo Che è la tua passione assoluta So che il cavallo Ha un nome Che tu hai definito Coatto Ma che Non si può cambiare Perché porta sfortuna Scaramanzia Come si chiama Si può dire Come si chiama Si chiama Grand Boy Io l'ho visto Tutto il mondo Sto grand No Più che altro Ma dove arriva Grand Boy Beh Arriva da lontano Perché il papà è tedesco La mamma è belga Lui è nato a Terni E quindi c'ha questo C'ha dei problemi il ragazzo Però è vissuto a Latina Ah bene Cioè è tutto un mondo Di Un interland Internazionale Grand Boy Con Terni e Latina Io l'ho chiamata Arfio Lo so E invece l'ho trovato Si chiamava così Però poi Ah il nome dovevi trovare Poi quando l'ho comprato Era Ma quanto costa Era Grand Boy Poi Purtroppo si è comportato molto male Gli è successa una cosa Brutta 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 Tipo Che non è più Grand Boy Diciamo Gli è cascato tutto È un po' girl Cos'è Non è X Non capisco quello che mi stai dicendo Stavo castrato Stavo castrato Stavo castrato Ah ok Da te Da te Perché Perché faceva casino Era pericoloso Sai gli stalloni Tu mi insegni Panno fino Gli stalloni Sono eruenti No Insomma E tu continui ad andare a fare queste gare E tutto quanto Si Quando non lavoro Si Ok E io volevo passare a un'altra tua grande passione Che è beautiful Che è beautiful Giusto? No Ancora questa cosa Ne abbiamo già parlato Vicky Continui a dire La tua passione è beautiful Sei timida E la tua passione è beautiful Aspetta Aspetta Allora Dobbiamo fare beautiful Ti spiego Eravamo su un altro canale Adesso io ti rifaccio la domanda E tu mi dici La mia passione è beautiful Aspetta 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 Tanto con il montaggio Va via quasi tutto Aspetta Eeeh Kate Vicky Sai che Tra l'altro Ho scoperto questa cosa Interessantissima Che tu vai spesso a pranzo Da tua madre E che Insieme Guardate beautiful Ma dai L'hai scoperto da poco Si Che figlia È incredibile Guarda che Abbiamo una redazione Pazzesca qui Si 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 E com'è questa cosa? Vabbè Allora Mangiamo Eeeh Quando Ogni tanto guardiamo beautiful Meglio Anche noi Ce lo guardiamo insieme Adesso Ma chi se ne frega? No ma infatti Non lo so No Era il momento gag Ci stavamo riuscendo In due momenti In due trasmissioni Diversi Ma ho rovinato No era Ma ce lo guardiamo insieme Adesso? Lo sai che c'è gente Che guarda beautiful Tutti i giorni dopo pranzo Diciamo minchiati a ruota libera Facciamo le peggio cose Eppure abboccano a tutto Come trote da pesca sportiva Anche se mi volto e passeggio Anche se io allargo le braccia E mi metto davanti alla scultura A forma di pizza Che tra l'altro è agghiacciante E se mi tiro sui pettorali Che fa figo? Sì Gente come la Gozzanti Ci segue comunque E con lei anche panno fino E io mi chiedo Sto panno fino Ma chi è? Se hai ragione tu Sai cosa ti dico? Alzo le mani Ok? Ora che fai Ridge? Mi metto le mani sui fianchi Girovago per lo studio in radica Mi muovo come un dondolo da giardino Mi siedo sulla scrivania E dico che ho messo in cinta qualcuno Con queste due grandi e possenti mani La Gozzanti e Panno Fino Ci crederebbero comunque Questa è bella Questa è bella A me mi ha fatto ridere proprio Anche a me Ah sì? No ma i testi Anche per i doppiatori Ciao è bello Facciamo un applauso ai nostri autori Grazie 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 Meno male che hanno tre Almeno qualche risata Eh se no Per le有el Cosa ? Per le有el Per le有el Per le有el Per le有el La pizza La pizza dietro La pizza dietro non era male Questa scultura agghiacciante No so che Si era grande Ma quindi Continui tuttora Cioè sapresti dirmi la trama In questo momento Più o meno Non ho idea No perché poi non capisco Siamo arrivati Mentre prima Se saltavi una settimana Ci raccapezzavi Adesso saltando un mese o due È un casino Per quanto ripetano sempre le stesse cose Hanno fatto un passetto E siccome succedono delle cose assurde Non ti puoi aspettare che sia successo Quello che infatti non capisci Perché c'è i riassuntini Le riviste specializzate Ci sono i riassuntini delle puntate precedenti Ah bella, ti devi dare una mano un po' Devi dare una mossa Svegliate un po' Io a questo punto ti direi Seguilo da noi perché da noi c'è Beautiful Io a questo punto vi ringrazio Vi ringrazio di essere stati con noi Ringraziamo naturalmente Caterina Giustatti Francesco Pallottino Grazie Grazie Oh sono stati benissimo Cacca di tutto Ciao 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 io Grazie mille Potete accomodarvi Noi Continuiamo con Il talk show È l'unico programma All'interno del quale c'è un altro talk show Vediamolo Talk Club Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Talk Club Oggi abbiamo un ospite veramente gradito Parleremo di etologia, di zoologia Lo faremo con un grande esperto Un professore che da tanti anni si occupa di animali in via di estinzione Ma facciamolo entrare Eccoci qui, lui è il professor Claudio Gregorelli Da tanti anni appunto come dicevo prima si occupa di animali in via di estinzione Ecco, professore ci può dire in poche parole qual è la sua attività? Ce la può raccontare? Beh, forse non tutti Ti sobreranno che c'è questo grandissimo animale stinto che è il dodo Che era un volatile molto affine Porto di un arisa Professore, gomma Non mi scuso Grazie Allora, mi chiamavo, mi chiamavo, mi chiamavo, mi chiamavo, mi chiamavo E' veramente una grande questione che oggi è L'attività di occuparsi di altre cose No, è un po' Se ricordano quelli famosi, no? Dodo, coala, 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 coala Panda, coala, coala Usate, gomma Ah, scute Grazie mille Ah, dopo il nostro talk club io ripasserei la linea alla nostra Virginia Che ci presenta il secondo ospite Prego, Virginia Bene Il prossimo ospite Ha dichiarato di essere attratto da ragazzi difficili E lo fanno soffrire Vuoi vedere che stasera ho una capocciata Un rimedio, uno straccio d'uomo? Bene, bene, Vicky Che dici? Potrebbe essere, no? Sì, no, potrebbe essere Però anche no È così, è così, è così romantico E una volta ha regalato una stella Del firmamento ad una sua fidanzata Lei, lei, lei lo ha lasciato Per carità La stella del firmamento Scena, scena Però magari un ciondolino Bagnato in oro, no? Ci scappa pure, pure, pure Un'è, in un'ì o un'ino Poi dipende dai gusti, insomma Bene, il nostro ospite Ha detto tanto Gli piacciono, non gli piacciono Assolutamente Le donne brutte Ora, se arriva e dice anche E di mamma ce n'è una sola E le patate sono diventate Un piatto per ricchi Io duro, duro, duro E mi alzo e me ne vado Ok, sei stata molto chiara Ok, sei stata molto chiara Ciao! Nicola Saporidis! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti! Grazie! Che bello rivederti! Che bello rivederti! Che la verità sembra un travestito con questo... Eh? No, perché? Beh, proprio forse... No, stai benissimo, assolutamente no! Sai che non sai recitare? Lo so! Ah, ecco! Vabbè, raccomodati subito! E cominciamo! Non state timidi! Parliamo subito di... Una cosa che ho letto, perché a volte voi attori fate delle dichiarazioni che... Assurde, vero? Assurde! Sai d'accordo anche tu? No! No, aspetta, allora, psicologicamente come ti prepari quando devi fare un'intervista? E questo è il punto, non ti prepari, non vai lì E cerchi di essere il più sincero e onesto possibile Magari di tesare un po' quello che dici perché a volte viene riportato in modo molto più grande Esatto! Allora, in questo caso, tu hai... Vorrei parlare del fascino del dolore Cioè, so che il dolore ti affascina Lei dichiarata questa cosa, giusto? Sì, non che sono un appassionato del dolore Però mi conosco nel dolore un certo fascino Ok E ti piacciono le donne che in qualche modo ti fanno soffrire? Eh, purtroppo sì Se ti do una sberla, va bene? Ci possiamo affidanzare? Come funziona? No, è un dolore... È più forte della sberla È quella sorta di male che fai a livello mentale, no? Quando fai rosicare una persona Quando cerchi di fargli del male Fai quei giochini un po' perversi Per cui lui sta male perché non chiami O perché... Quel gioco psicologico Non so se in questo momento ho ancora voglia Boh, ho forse dei problemi Quel tipo di dolore è lì In qualche modo un uomo che viene tenuto sul filo del rasoio è... Tu lo sai che sei una femmina a questo punto? No, te lo devo dire perché noi femmine siamo così No, io ti dico quello che fanno le donne a me, eh Sì, però quello che voglio dirti è che Cioè, di solito siamo noi quelle che vogliono soffrire No, lo vogliono tutti, dai Non si desidera Non si desidera mai ciò che è facile da ottenere, no? Quindi desideri sempre qualcuno che di solito è uno stronzo O in quel caso è una stronza lei E tu proprio per il fatto che si comporta così Vorresti liberarti di lei Però non ce la fai È troppo più forte E quindi tu rimani in questa situazione E ti piace... Finché non arrivo al punto in cui basta E ecco, e quando lo capisci che il punto è... È quando... Cioè che il momento è arrivato, diciamo Quando non ne posso più Quando diventa tutto troppo E passi le giornate a pensare Ma perché sto con lei? Ma perché devo soffrire così? Sì Ecco, ma adesso stai con qualcuna? No, infatti vedi come sono tutto... Eh, infatti sei di buon umore Ti vedo Il sorriso webbete stampato in faccia No, no, non sono con nessuno È felice Ah, felice non lo so La felicità è una cosa che cerco come tutti Sono sereno, sono contento Ok Mi interessa più la serenità che la felicità La felicità dura poco Però la serenità è qualcosa che può farti... Può farti avere un equilibrio che dura nel tempo E sì, sono sereno, sto bene Io sono contento... Eh, contenta Vedi che sembro un uomo? Che lapsus Scusate Tu non ridere Sono contenta Perché sono una donna E che lui sia sereno, felice così Perché sta per entrare una donna Molto serena Che a noi dona sempre un sacco di felicità E si chiama Jackie Cucciari Ciao Jackie Ciao Vicky Non ti stavo riconoscendo Vestita da poltrona Sei mimetizzata Buonasera Nicolas Vaporidis Benvenuto Buonasera Come stai? Bene Un nome che non si dimentica facilmente Il tuo anche volendo Come le canzoni di Popia Diciamo Brutte ma ti restano in testa Bene Vediamo con i sondaggi che riguarda il nostro Snikolas Atos, Portos, Vaporidis e Aramis Uno di questi non è un moschettiere Lei saprebbe dirmi chi è? Sì, per tre italiani su quattro No? No, quindi insomma C'è da dire che tre italiani su quattro Stanno perfettamente evidentemente Chi tu sia I tuoi film hanno avuto anche un altro grande merito Quello di riavvicinare i giovani allo studio Sano delle materie più classiche Almeno dell'abordaggio della compagna di classe Debole in latino ma forte in preliminari Però Stiamo sulla notizia Allora, perché è fresca la notizia? Secondo cui gli scrutini del primo quadrimestre Di quest'anno delle superiori Evidenziano un aumento delle insufficienze Insomma, i ragazzi vanno male a scuola Una situazione incresciosa Allora, secondo me il problema non è soltanto degli studenti Lo condivido con te, giovane uomo Ma le materie Allora, per renderle più interessanti Vanno attualizzate O delle proposte Letteratura Confronto tra il volgare e antico di Dante E quello moderno di Flavia Vento Geografia Dalla deriva dei continenti Alla deriva della discografia Dopo Emanuele Filiberto a Sanremo Storia dell'arte Rapporti tra il surrealismo E il palinsesto di Rai 1 Applicazioni tecniche Fatelo da voi Il bambino E poi anche le lingue sono importanti Amor vincit omnia Volevo cuscire avec moi Se soir Boys, boys, boys Are ready for the good times Viva la vita loca Dankeschön Quando tu vuoi dirmi qualcosa Intervieni Seconda domanda Sì, sì, puoi replicare Posso? Ma certo Ti sto guardando ammirato in questo momento Ammirato è un sinonimo di? Colpito, stupito o disorientato? Colpito, stupito o in modo positivo E disorientato anche E lo so, è la bellezza della vita Seconda domanda che riguarda il nostro Nicholas Vaporidis sostiene che muoversi e viaggiare Apre la mente Se lei ha il cordless Le spiace spostarsi di stanza E dirci se le si è aperto qualcosa nella testa Boh, guarda Perché comunque Non si è aperto niente all'81% Ma io A questo 18,9% A cui si è aperto qualcosa Forse la dura madre del cervello Io temo, non so È sorprendente che Cambiare stanza Non allarghi gli orizzonti Io so qualcosa di te Che tu ami andare in barca a vela? Eh, se ce l'avessi Sì, no Non ho detto che ami andare nella tua barca a vela Hai ragione, è vero Ammi andare nelle barca a vela altrui In generale Anche prese a nolo addirittura Allora, ti chiedo una cosa La prossima volta che non leggi una barca O quando te la comprerai Noi te la auguriamo Mentre solchi le onde del mare Libero, sereno e felice Dovessi mai vedere In un'isola abbandonata Una donna bionda Malnutrita Che si dimena e chiede aiuto Non ti fermare È l'Alecciso È l'isola dei famosi Vai dritto Promettilo Giuro Terza domanda Nicolas Ha origini greco-romane Nell'antica Grecia Gli attori venivano giustiziati Dopo lo spettacolo Nell'antica Roma Li ammazzavano anche durante Secondo lei Per evitare che in Italia Recitino quelli del grande fratello Si potrebbe tornare a uno di quei metodi Guarda Sì per il 93% degli italiani Questa risposta un po' drammatica Ci fa capire una cosa Però che tutti parlano male del grande fratello Ma tutti lo guardano Mentre tutti criticano Vittorio Vittorio E nessuno lo guarda Però allora io mi chiedo Ci sono anche delle affinità Tra questo programma e grande fratello Anche noi abbiamo le telecamere Anche noi abbiamo il meccanismo Delle eliminazioni Abbiamo eliminato gli ospiti famosi Guardate che abbiamo stasera Anche noi abbiamo il Tugurio Dovresti vedere il mio camerino E soprattutto anche noi abbiamo una conduttrice Che si è fatta ridurre il seno come la Marcuzzi Solo che Vicky ha perso un po' il senso della misura E anche noi abbiamo le nomination Io mando i nomination Quella là Perché quella là Anche in 16 noni rimane magra E non lo posso soffrire E Vicky per esclusione Perché è quella con cui ho legato di meno Comunque io caro Nicola Ti aspetto dopo là nel mio camerino Che restituisco dignità Alla tua metà greca soppressa Ti assicuro che dopo due litri Di uso con me Ti metti a ballare Sirtacchi Mi parli pure a teniese stretto Sicuro, guarda Grazie mille, Giorgi Un genio Bravissima Allora Prima di diventare famosissimo Tu hai fatto mille lavori, giusto? Hai fatto qualcuno, sì Tipo? Tipo il cameriere che è stato il mio lavoro più lungo Sì Ho lavorato So che eri un mezzo disastro lì, giusto? Ma no, come cameriere non tanto Ero un disastro come runner Come autista sul set Sulle produzioni? Sì, lì ero Lì ero veramente un bel casino Perché? È perché primo non conoscevo il raccordo anulare E a Roma è fondamentale Qual è la cosa peggiore che hai fatto? Sul set lì? Sì, o in generale Lavori è... Una volta ho fatto una figuraccia Ho portato un'attrice Sì? Da casa sua Che era a Piazza Vittorio Dovevo andare a Torbella Monaca Il set stava lì E io non conoscevo bene il tragitto Io non so come ho fatto Io a un certo punto mi sono ritrovato Il casello Roma-Firenze Ho detto Forse ho sbagliato strada Lei nel frattempo dormiva Io avevo un attacco di panico E lei si è svegliata Nel momento in cui il casellante mi ha fatto Allora questo è il biglietto per Firenze Mi fa Scusa ma dove mi stai portando? Non ti preoccupare Sto facendo una scorciatoia E sulla Roma-Firenze Sono uscito a sette bagni Quindi ho fatto 40 km in più Correndo E lei mi fa Vai piano Non mi frega niente di morire Per il film di Salembe Io no mi scusi Hai ragione Nel frattempo il telefono mio suonava Con la produzione che mi chiamava Mi diceva dove sei? E chi era? Non era la Ragneri spero? No Era un'altra attrice Che non mi ha più voluto vedere Da quel momento Strano Stranissimo proprio E la produzione per dispetto Mi ha messo la ruota Il giro auto Sempre con lei Per fare un dispetto a me A lei Sì Già la vedo Lei che girava col Tom Tom Lei probabilmente No mi ha odiato Lei non voleva proprio vedere Mi è scesa dalla macchina Mi ha fulminato Io ho detto Mamma mia Adesso è finita Mi cacciano via Invece non mi hanno cacciato Strano Ma si può dire il nome? Sì Buia Ielo Sì E chi è? È un È un'attrice siciliana Che ha lavorato su Sul sette di Salembe Noi ci torniamo Un secondo per la pubblica Torniamo tra pochissimo Qui con Nicolas Vaporidis Stabilis Gente che non viene Verrebbe ospita a Vittor Vittoria? No Cosa ho detto? No Ah mi sembrava Bentornati a Vittor Vittoria Siamo in compagnia di Nicolas Vaporidis Stai battendo i piedi? No Smesso Adesso li tengo fermi Sto qui buono Ma perché ti scappa la pipì? No 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 assolutamente Perché mai? No Non ho mica bevuto due litri d'acqua Tutti insieme No 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 Non sta bene Stai bene Tu comunque cerca di distrarmi Mi raccomando Io ti distraggo subito Ti distraggo subito Perché Anzi Voglio che vi concentriate tutti quanti Perché Adesso sei Nelle sale In questi giorni Con il tuo nuovo film Tutto l'amore del mondo Giusto? Esattamente Allora Nuovo film E noi abbiamo Eccolo qua Vediamo anche il cartellone È lui È lui È lui E io prima di continuare Con la nostra chiacchierata Vorrei che la nostra Virginia Ci raccontasse la trama Sì Bene Il film Parla Parla di Una giovane prostituta Di Hollywood Sì 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 Innamora Di Un'affarista Senza scrupoli Alla fine Sì Sì Innamora Anche lui La La salva Dalla strada E Sero tutti Felici Contenti Ma Virginia Scusami un attimo Questo è per TV Oman Eh lo so Dalla trama del film Ti va a porire Di È una palla Guarda Guarda io mi scuso Mi scuso a nome suo E a questo punto ti prego Ci racconti Non è vero Io so che è un bel film Ce lo racconti un pochino Ci dai un Beh più o meno Più o meno la storia Ma come più o meno È la storia di un viaggio È la storia di un viaggio in Europa compiuto da quattro ragazzi che si incontrano per sbaglio Sì E che devono affrontare questo viaggio insieme pur non volendo Perché non si sopportano Però il fatto di essere in viaggio e quindi lontano dalle città dove sono nati e cresciuti E quindi lontano dalla gente che in qualche modo li guarda e li giudica Riescono a liberarsi delle loro paure e a diventare qualcosa di diverso rispetto a quando sono partiti Ok E Matteo il protagonista che è il personaggio che interpreto io Gira per l'Europa perché deve scrivere una guida sui posti romantici d'Europa Pur non sapendo parlare d'amore Benissimo Benissimo che fa guide di tutt'altro tipo Molto più easy Tipo, non so, sulle orme degli zampognari della ciociaria Piuttosto che canticchiando vecchie canzoni passeggiando in Umbria E gli affidano questa guida e lui è uno sprovveduto E insieme a me partono Anna Morario, Miriam Catani e Alessandro Roia Ok Ma io ti voglio chiedere questa cosa qua Perché in qualche modo tu sei, come dire, sempre stato protagonista di un certo filone di film Gli adolescenti che hanno avuto un enorme successo Enorme successo anche il botteghino e tutto quanto Quindi io vorrei fare un piccolo test per capire se anche questo film appartiene a questo filone Ok Ok, ci sei È semplicissimo Si chiama il test di adolescensitudine Non so se sono riuscita a dirlo ma eccolo qua, ce l'abbiamo qua dietro Partiamo con la prima domanda Nel titolo del film Compara almeno una volta la parola notte anche a c***o Ma comunque citata da qualche parte Oppure in alternativa la parola amore pure questa infilata a caso Possibilmente accompagnata da un aggettivo tipo tutto molto qualunque parecchio Ciasché d'uno basta che sia indefinito come la trama del film Sì, sì, però No, aspetta Il titolo ha una sua ragion d'essere Ah, sì o no? Sì, sì Sì, non mi salvo Però il titolo della guida è tutto l'amore d'Europa Eh, vedi che c'è la parola amore? Sì E qua già si va sulla buona strada Intanto non c'è più notte, non ci sono i pini di Roma Esatto Non ci sono quattro ragazzi con la chitarra Ma aspetta, adesso ci arrivo anche qui perché io vorrei capire No, vorrei capire questo Nel film c'è almeno una scena notturna in cui il protagonista fa una corsa a perdifiato per i vicoli di Roma Diretto alla casa di una ragazza che ama e per un fenomeno inspiegabile in natura Trova le strade completamente deserte Quando tutti sanno che a Roma qualunque ora non ci si muove di un metro Per la massa di trasteverine appollaiate sulle vespe E se vedono un pirla che corre a perdifiato fanno pure partire la sassaiola Uff, sì, è vero È vero? Sì, no, però non c'è la scena Non c'è la scena, ok, niente No, quella della corsa Quella della corsa è una fissa di Fausto Brizzi Che ha fatto atletica leggera da ragazzo Sì, che salutiamo E che non è riuscito a fare poi, a diventare un professionista Però lui correva, era un centometrista E ha la passione per la corsa E lui mette una scena in ogni suo film E io ne ho fatti due con lui Dove il protagonista corre a perdifiato per le strade di Roma e strade deserte Deserte? Non si capisce Ma corre veramente? Cioè Fausto ti fa correre, vuole che corri con tutto te stesso Veramente? Noi abbiamo fatto notte 1 e notte 2 Due giorni interi di corse, due notti Dove giravo soltanto io e l'operatore sul quad E io gli correvo dietro Non ci posso credere? E Fausto diceva no, devi correre parallelo Dico Fausto, mica vado a 40 all'ora Come faccio? Devi correre! È la passione per la corsa lui In questo film no Immagino i prossimi protagonisti dei suoi film Cari ragazzi Mentre lei che è molto più sexy e traspira ormoni come un'amantide nel periodo della monta Per un assurdo disegno del pato È sempre single e pur essendo circondata da maschi in calore Non batte un chiodo per tutto il film No Non c'è? No, è promessa sposa Clamoroso non è un film adolescenziale Però vuoi fare una piccola precisazione? Sì Vai C'è un'amica della protagonista che è come dici tu È un po' no? È legna? No, no, non è legna È esuberante, è frizzante Miriam Catania fa l'amica della protagonista Sì Però la nostra protagonista è promessa sposa Quindi non è proprio così sfigata È un po' un... Quasi Alla risposta è quasi Allora forse Stai ritrattando quindi potrebbe essere? Non proprio così È un ni? È un ni, dai diciamo ni È un ni, quindi un si è un ni Più no che si È, è, è Però allora forse andiamo Beh c'è l'amica, c'è la protagonista Però le dinamiche sono diverse Tu hai un amica Però c'è una cessa e una legna? No Non sono né cessa e né legna, no Va bene No, la risposta è no La risposta è no? La risposta è no Ok, va bene Non è un film adolescenziale A questo punto però Io vorrei far vedere un trailer Un trailer che noi abbiamo in anteprima Uno a caso E quindi uno a caso Sempre sul filone adolescenziale Perché noi abbiamo in anteprima Il trailer del suo prossimo film Cioè quello dopo questo E lo vediamo Ah sì Hanno superato l'esame di maturità E il nome di questo fenomeno è Tetonica Placche Che sembra una brutta parola Ma invece è No, perché è scientifico Poi hanno affrontato l'esame della vita Non sarai mica uno di quelli Che si guarda la partita con gli amici La trombetta, la bandiera Io? Perché c'è la partita stasera? Ora, il terzo episodio della saga Non ce la faccio Per carità Non ce la faccio Amore, devi farcela Tra poco sarà mattina No, no, no Non capito Ho pure di non riuscirci Ma certo che ce la puoi fare Sono qui, vai Sei bellissimo Amore E allora fallo per me No, non ce la faccio Non veramente Non ce la faccio Ma come non ce la fai? Va bene, senti Lo faccio per te Ok? Lo faccio per te No Non sarebbe giusto Fallo per noi Va bene, lo faccio per noi Ok Tutta, eh? Ancora no? Tutta Tutta, tutta Vai, amore Vai, 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 vai Tutta, 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 tutta Il film per cui sarò ricordato Tu sarai ricordato per questo film Io sarò ricordato per notte prima degli esami delle urine Sì, sicuramente Non è vale però No, bellissimo Mia madre sarà orgogliosa di me Eh sì No, però è un ritorno Ma adesso, a parte tutto Perché si parla spesso della rivalità tra te e Riccardo No, ma di che, ma non esiste Ma che ci sono le fan di Vaporidis e le fan di Scamaggio No, 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 guarda, non esiste Io posso essere divertente È vero, ragazze, questa cosa qua Io l'ho letta da qualche parte No, vi piacciono tutte e due? Sì, lo scrivono Ma Riccardo è un'altra cosa Lui ha un fascino suo maledetto Io non sono così Io sono più goliardico Io sono più scherzoso Lui è più figo Ma lui è più figo, dici? Sì, ma è proprio il suo ruolo Gli occhi verdi, capelli lunghi, lo sguardo Però non ti buttare giù così adesso No, mica ho detto che sono un cesso Sto dicendo che Riccardo ha No, 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 no Però, obiettivamente, io punto su altre armi Aspetta, aspetta Però, diciamo che nel cinema lo sguardo fa tutto, no? Lo sguardo è molto importante Il mio è acquoso Il tuo è acquoso Il mio è acquoso E secondo me lui ha delle chance la può giocare, questa cosa Io voglio fare un piccolo esperimento Per confrontare, appunto, lo sguardo di Riccardo con il tuo Adesso proviamo a mettere delle tracce musicali sotto e fare dei primissimi piani Guarda, abbiamo la telecamera, la, è quella lì infossata che vedi lì dentro Il tuo primo piano Allora, io chiederei uno split, una cosa Mi dividete a metà lo schermo dove vediamo, diciamo, la faccia di Riccardo e il primissimo piano di Nicolas Ok, adesso voglio fare questo esperimento Sguardo intenso, eh Ti ricordo che la tua telecamera è quella lì dietro, quel coso Sì, ma a me viene sempre una faccia da babbo in queste situazioni No, 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 no Allora, stai recitando Vai con la prima musica, sguardo intenso in quella telecamera Vediamo tra te, Riccardo No, aspetta No, 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 non devi ridere, perché se no ha già vinto Riccardo Guarda lui com'è bravo Eh, una foto Eh Ci sei Ci sei, ci sei Non male Non male, aspetta Però con questa musica Spara una Blue Steel in macchina? Vai con la Blue Steel No, con questa qua sono facilissima Adoro, io lo faccio sempre con i fotografi di set che mi odiano Veramente? Sì, mentre loro fanno le foto Perché ti odiano? Io ho tutte espressioni delle foto, ma album interi Sì Sì Così Sfida definitiva per vedere chi è il più figo dei due Sempre sguardo intenso La tua telecamera è pronta Vai con la musica Ci la faccio colare Ci la faccio colare Ci la faccio colare Ci la faccio colare Non hai fatto dire che con questa sua vita vinci tu? Ci la faccio colare Riccardo Riccardo è un ragazzo bellissimo Un bravissimo attore Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Trovami una donna che dice No, Riccardo no A me no Perché no? Perché hai il pregiudizio Perché lo vedi Perché ti può stare antipatico forse Però è obiettivamente Un bellissimo ragazzo Italiano ce l'abbiamo Nel cinema Fa anche cinema internazionale Ma godiamoci di questi nostri attori Parliamo di superstizione Perché io so che tua nonna Nonna Elvira Sì So che è molto superstiziosa E beh calabrese Ecco Essendo calabrese Fa questa cosa molto curiosa Ti riempie le tasche di peperoncini Sì Non mica tutti i giorni Lo fa durante le anteprime dei film Sì Alle prime Alle anteprime dei film Si è mai capitato qualcosa di spiacevole Diciamo che uno Può mettere le mani in tasca Poi va in bagno Non è proprio carinissimo Se non si è ricordato Di aver messo le mani in tasca E aver toccato il peperoncino All'anteprima di un film Ho fatto una cosa così Cioè? Me l'ha messo Tra le mani No? Poi un mazzetto Non un peperoncino È certo Generosa Generosa perché Superstiziosa Io l'ho preso L'ho ringraziata Ci siamo dati un bacio Messo nella tasca E avevo un abito Quindi non è che entrava perfettamente L'ho schiacciato dentro le tasche Con la mano Quindi fotografi Quella roba lì era peperoncino Nella tasca di Nicolás No ma la cosa assurda era Che Io ho il vizio di Di grattarmi qui Soprattutto l'arco delle sopracciglia E l'ho fatto con le mani sporche di peperoncino Sono andato in sala A presentare il film E avevo quest'occhio così E non riuscivo a tenerlo aperto A un certo punto Ero imbarazzato come poche altre volte Era una sala piena Con 350 persone E io ero lì E parlavo così Avevo solo quest'occhio Sembrava un imbecille Un completo imbecille Avevo quest'occhio gonfio E non vedevo loro di che Finisse la presentazione Per andare in bagno A sciacquarmi gli occhi Ci ho messo tipo 20 minuti E un occhio così Questo per Che mia nonna Però la nonna è La nonna è la nonna Sono quelle cose Cornetti, peperoncini Coccinelle pure Vive? No Coccinelle di legno Quelle finte Ti mette le cocinelle in tasca? Quest'anno sì Una cocinella di legno Piccolina Piccola così Che carina Sì, sono cose In cui lei crede Onestamente Cioè mi mancherebbe Non avere Eh certo Porta fortuna Sì Senti Tu sogni di fare Un ruolo da cattivo Giusto? Eh, mi piacerebbe molto Vero Anche se in Iago Eri abbastanza bastardo Dai Beh sì In cemento armato di più Ma Tornando invece a Iago Torniamo a Iago C'è una scena Dove vi baciate in tre Sì Sì Ecco il volfango Il regista ha raccontato Che insomma Vi siete divertiti parecchio A girare Lui sì Lei un po' meno Ok Perché eravamo due uomini Una donna Lei Giulia Stegerwold Una ragazza Molto È l'esempio perfetto Della ragazza per bene Molto americana Lei quindi Timida Sai Per favore posso Certo E in quella scena Doveva essere tutt'altro Infatti lei è una bravissima attrice Però era Era molto imbarazzata Lei sì Beh Scusami Io ti voglio chiedere Quindi C'è una scena di un bacio a tre Quindi tu mi confermi Che si può fare Come Come si fa il bacio tra uomini Si fa anche un bacio a tre Sì Possibile Possiamo provare a fare questa cosa qua In tre Io te E Virginia Che bella questa trasmissione Stiamo cercando di capire se effettivamente è possibile Lo mettiamo in mezzo Lo mettiamo in mezzo Ecco mettiamolo in mezzo Benissimo Io vi saluto adesso perché sto per svenire Cioè lo so già Siamo arrivati alla fine della nostra puntata Non so dove mettere le mani Sto così No tu le mani tienile così Vengo così Che fa molto A me fa molto sesso È così? Non so perché Eh vabbè Se fa sesso a te così Ti vuoi come andare con una mummia? La posizione del morto dai E adesso? Eh non lo so Ce lo devi dire tu Allora scusate La telecamera Adesso cosa facciamo? Ci avviciniamo qua? Veniamo sotto così Ci vedete da Da sopra? Sì È una Adesso ti fattiamo Vogliamo fare la conta? Chi comincia? Dai Vai Ti butta 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 Io l'ho detto dispare Io pure Prima che esce gli altri lo fanno No Io direi Dai facciamo altre simboliche È una roba così Vediamo se In tre Ci si Ce l'ho Questa sembra una foto di Terry Richardson È una meravigliosa Sì è vero È vero È vero Solo che io non sono una figa Eh Sì vabbè ma Non si può O tu ti impegni Mi impegno Molto serio Dai ci vediamo alla prossima puntata di Micronizzata Ma tu hai del lucidalabbra? Non ho io Ah ok No no niente 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 Ci vediamo alla prossima Ciao Micronizzata Ci vediamo alla prossima